Siamo tutti pronti caro sazzi, non c'è nè di spadi nè di mazzi, nel carico nel liceo siamo scoppi, noi altri siamo lui ricordi. Ma abbiamo una macchina con rapica mimetizzata, perché è arrivato il duo di copre, buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno alla catalla, alla catalla a tutti, buongiorno. Come siamo, come siamo? Come state? Ah benissimo, quando si è con voi, alla catalla porta fortuna e noi ogni volta che abbiamo la fortuna di essere con voi, siamo felicissimi, vero Salvo? Verissimo, verissimo. Salvo non pare molto felice, c'è questa macchina delle università e quelle americane. Il duo che aveva a tezza elementare, è a Puggio, il duo che ha fatto veramente, vi c'è a tezza e sparte serale, parò media, elementare, elementare, ma c'era l'unico pambino ad andare al serale. Scusate che stiamo mettendo le cuffie. Vediamo un po', senti? Perfetto, benissimo, benissimo, benissimo. Ma sentite, noi ci siamo fatti truccare stamattina, abbiamo fatto bene, siamo... I miei messaggi di protesta da quelli che seguono tutti i due catane della sera. E' un ragazzo fino a poco fa fresco fresco di parrucchiere. Invece sono arrivati loro che stasera peraltro rivedrete insieme da Salvo la Rosa al programma, che come sapete è il programma caldo del cabarettismo in Sicilia, e ci saranno anche loro. Il duo di coppe. La carta più un nì, che è la carta più un nì? E' un buro che un nì. E' un buro che un nì. Esatto, buro che un nì. E la domenica verrà dedicata tutta agli ospiti del cabarettismo in Sicilia. Dove saremo? Noi saremo in piazza università dalle ore 20, la serata con i comici. Ma tutta la giornata sarà una giornata Teleton, con la corsa, la maratona, la mattina. Insomma, veramente di tutto di più per ricordare la ricerca Teleton, che è importantissima. C'è il villaggio Teleton, noi faremo parte di questo villaggio esattamente il 6 maggio. Il duo di coppe, Giuseppe Castiglia e tanti altri ospiti che vanno a dare il loro contributo. Intanto questa sera insieme c'è qualcosa che volete anticipare? Allora noi vi anticipiamo che questa sera, come avevamo detto qualche tempo fa, il duo di coppe si presenterà finalmente non più nelle vesti di Matrix e Patrix. No, no, è originale. Il virus, sì. Ma questa sera faremo a vasspettacolo. Sì, stasera presenteremo il brano. Avanti, avanti. Presenteremo il brano che lo ci sembra stasera. Ah, la canzone nuova, la canzone è nuova. Sì, il rock di coppe. io allora e qui non ce l'ho la possibilità di sentire il cd però un accendo lo possiamo fare live si si il ritornello rispetto a un effetto ce l'ho vai vai Urui ricoppi Urui ricoppi Urui ricoppi Urui ricoppi e basta Giuseppe questo è il ritornello senti una strofa gliela faccio chi fu? che sta succedendo? no 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 aiuto è che stasera lo sentirete dal vivo questo pezzo insieme da Salvo la Rosa e il ruo di coppe ospite della trasmissione più amata dei siciliani allora non ve la canto ve la recito dai siamo tutti pronti caro sazzi non siamo né di spadi né di mazzi giustamente né carico né liscio siamo scopi nuace siamo ruo di coppe anche in brosa anche in brosa ma c'è Saro Minardi non sbaglio allora davanti a un attore come Rosario Minardi che è appena arrivato Saro scusa questa interpretazione di di Rosario si veramente era quanto di peggio potesse succedere a Rosario Minardi nella sua carriera artistica è stato uno dei miei maestri è stato uno dei miei maestri la canzone del duo di coppe è stato uno dei miei maestri lo stavo scusami per la delusione adesso lo faremo parlare perché parleremo di uno spettacolo particolarissimo che Rosario sta mettendo in scena intanto buongiorno buongiorno a tutti buongiorno ai nostri ascoltatori posso perannotare già la voce puoi ridire buongiorno vai buongiorno buongiorno a tutti mamma mia senti i passi che ti vibrono nello stomaco vabbè intanto salutiamo i nostri amici duo di coppe ovvero Diego Strano e Salvo uomo D'Antone 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 con l'apostrofo ottenuto D'Antone D'Antone di Diego e Salvo che vada di tuo di coppe però seguiteli stasera insieme seguiteli in giro e anche il giorno 6 maggio insieme a me a Piazza Università dalle 20 in poi per il villaggio di Teletro grazie Salvo grazie a voi alla catalla stasera alla catalla a tutti